e paola passo da te a pino mercuri perché tu hai tirato fuori alcune caratteristiche efficienza qualità e motivazione delle persone e hai tirato fuori due numeri molto interessanti snam 21 anni di media per un dipendente in alcuni paesi per le nuove aziende tech un anno e cinque mesi pino mercuri e char director italia di microsoft concentrato su quello che è nuova organizzazione nuovi ruoli per la funzione char probabilmente non con questi numeri di un anno e cinque mesi ma sicuramente essendo una di queste aziende tech colpito da un turnover molto più rapido del passato e da quindi un ingaggio diverso verso i propri dipendenti verso le persone che poi fanno crescere l'azienda sicuramente il mondo del lavoro sta cambiando e sta cambiando in maniera molto molto forte ci sono nuovi lavori se penso a quelle che sono le professionalità maggiormente richieste sul mercato oggi parliamo del mondo dei big data parliamo di cyber security parliamo di cloud per venire al mondo dell'ICT ma io credo che ci siano anche nuovi modi di interpretare le professioni classiche quindi da questo punto di vista sicuramente esiste un ritmo del cambiamento un'intensità del cambiamento che coinvolge il mondo del lavoro a più livelli nuovi ruoli ma anche nuovi modi di interpretare ruoli un pochino più tradizionali e ci sono dei trend molto molto chiari che influenzano tutte le industrie sicuramente il trend della mobilità è uno ed è molto molto forte oggi pensiamo che il 60% dei dispositivi connessi è connesso alla rete mobile e non più alla rete fissa pensiamo solo che questo numero 10 anni fa era 0% o qualcosa di molto molto simile e il tempo dedicato al lavoro in mobilità oggi probabilmente si attesta intorno al 50% dell'attività totale giornaliera delle nostre risorse all'interno dell'organizzazione ma l'azienda sta cambiando anche dentro penso a tutto il mondo del social a me fa impressione citando sempre gli stati uniti che probabilmente sono un pochino più avanti rispetto a noi dove il 90% delle aziende dispone di un social network interno quindi da questo punto di vista sta cambiando anche il modo con cui si comunica all'interno dell'organizzazione i data, l'abbiamo visto, sta sostanzialmente cambiando il modo di interpretare tutti i mestieri all'interno dell'organizzazione pensate solo che ogni anno i dati a disposizione nel mondo raddoppiano quindi ogni anno si genera una mole di dati superiore a quella di tutti gli anni precedenti infine metto un altro elemento sul tavolo che è la dispersione del talento oggi il talento è disponibile dove pensiamo non possa essere quindi abbiamo dei talenti straordinari in India, in Cina, in America Latina e quindi come interpreti le risorse umane dobbiamo andare a interpretare e a massimizzare il valore del talento dovunque esso sia capite bene che in questo contesto se dobbiamo parlare di new currency, di nuovo valore è nella collaborazione collaborazione in mobilità, collaborazione attraverso gli strumenti social collaborazione su strutture che siano anche evidentemente disperse capita molto spesso che abbiamo dei capi che non sono nel nostro ufficio ma sono a centinaia di chilometri di distanza capita che abbiamo dei colleghi che sono a centinaia di chilometri di distanza come garantire la collaborazione secondo me è un tema che deve essere al centro dell'agenda della direzione risorse umane quindi questo direi che è un po' il tema di partenza grandi cambiamenti, collaborazione come nuova leva, nuovo valore e nuova forma di produttività qui veramente sta il valore che possiamo portare come risorse umane e devo dire che dobbiamo diventare anche un po' tecnologi umanisti stavamo ragionando un po' sull'equilibrio tra tecnologia da una parte e umanismo dall'altra dobbiamo essere da un lato early adopter quindi essere interpreti da tecnologia ma non perdere lo human touch che è assolutamente indispensabile per portare valore all'interno dell'organizzazione quindi da questo punto di vista oserei dire che dobbiamo veramente fare il massimo per mettere a disposizione tutte le persone dell'organizzazione gli strumenti moderni tecnologicamente avanzati evidentemente Microsoft ne ha qualcuno da questo punto di vista ma sicuramente interpretandoli con uno human touch una sensibilità che solo l'uomo può dare alla tecnologia stessa poi forse toccheremo anche il tema dell'intelligenza artificiale lo rimandiamo dopo rimandiamo ancora tra umano e tecnologia prima di superare il rapporto tra umano e tecnologia e fare il rapporto tra tecnologia e tecnologia